ok ciao ragazzi sono Ed e benvenuti in questa serie con Nespo nella mappa Fostobre Muatta e... Bruno Hatta, Bruno Hatta ma scritto così c'è, Bruno Hatta Bruno Hatta giusto Bruno Hatta, Bruno Hatta e eh... eh sì certo la... il primo episodio del canale di Nespo, cioè scusate il episodio precedente del canale di Nespo, il primo è il mio quindi, come avete potuto capire un episodio di... A testo! ma è che non c'è perchè ha la malaria, quindi bisogna andare a... eh ed se torniamo all'era non è proprio una brutta idea allora suonando la texture default, perchè insomma... io sto usando la vitello pack si la sto usando anche la vitello pack, no scusate, non la default, la fateful, che cazzo dico, se no che senso avrebbe dire... qua c'è drop di carne marcia che ci servono per gli smeraldi, quali per carne marcia, quanti ne hai? 11 ok io non sei, quindi te ovviamente dovremmo farcela con quella che c'è in casa no c'è ne ho otto invece addirittura ah ti le bottigliette cazzo, prendiamo l'acqua, poi le diamo al villager poi il villager se le ficca nel culo e gode e gode, certo e lì arriva il proprio... il clue della serie diciamo l'orgasmo della serie esatto in senso lato ovviamente perchè non è un senso quadratico, scarto, quadratico, medio, però quello si chiama ok allora... esatto poi c'è il past tense dei verbi ok poi c'è un train informatico, no ma quello non l'ho mica preso io, l'ho preso Ed certo ho preso train informatico cazzo devo studiare l'inglese per domani, va bene ma si dai una cagata Ed lo so che è una cagata però vorrei ripassare quelle due tre cose perchè sai... vorrei prendere un voto questo aereo è sparso dappertutto devo dire no mi sa su questo cosa che dopo un po' non posso più correre, ma ok Ed sai che se salti vai più lento, no? si è quello che volevo capire anch'io perchè non lo so si vai più lento se salti cioè è una cosa ipica si è vero, si è vero, si è vero, vero ok allora perchè non l'avesse visto il episodio di Nespo faccio un piccolo aspetta che cosa vuole questo villager, addivina a vedere cosa vuole questo villager dipendendo qua intendi, però aspetta che voglio vedere questo qui fuori dall'aereo allora vuole una mushroom soap e ci da una bowl, vabbè sempre scambi equi no vabbè certo per far avanzare il thread è quello che serve lo so però non è uno scambio equo, cioè nel senso lo so che non è uno scambio equo io ti do una cosa, tu me ne dai una che vale tanto quella non una cosa che non vale un cazzo rispetto a una che vale cioè è come dire, io do la zuppa se la mangio e ti dà la ciotola esatto cioè, mangia proprio la zuppa, grazie tranquillamente dov'è che sta il... vedo la coltivazione da qua fuori mi serve l'altro villager, dovrebbe essere qua teoricamente ecco qui, il mezzo... quanta carne marci hai? io ce ne ho 8 io ho 11, te lo vedo eh ma dovremmo averne un po' di necessità qui ce ne ho 12, io ho 23 adesso 8-31, cazzo non ci basta ancora quante ne vuole? eh 38, dovremmo uccidere altri 2-3 zombie, 3-4 aspetta allora prendiamo, andiamo, intanto facciamoci un piccone in pietra ma se ci facessimo la coltivazione di zucche così è giusto per... tanto... eh, dove sono le zucche però? eh, c'è uno io, ci facciamo i... 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 quattro semi teoricamente se mi dai un attimo il... aspetta un secondo, aspetta un secondo che la faccio ah sì, mi sto craftando il piccone che se non ce l'ho e poi mi crafto la spada cioè vado a prendere un po' di pietra e mi crafto la spada sì, se mi dai un piccone anche la spada vado... vado... vado io a craftare la spada perché abbiamo finito il legno quasi lol no, ok... quale è la brutta notizia oh, che cazzo è che prende danni dopo un quarto dole abbiamo stato 2 di third, quindi c'è niente bisogna mettere... una third qua, una third qua e insieme qua vabbè, siamo circondati dalla pietra, cioè non è quello il problema sì, io faccio i pumping, sì, intanto, però non... eh, però le zucche non ci serve un cazzo col tivale, perché non si possono mangiare sì, anche è vero questo, però... sì, è vero, però, intanto... però magari poi riusciamo a farci... vabbè, però, giusto per... ah, io mi faccio una spada in pietra beh, però scusa un secondo, io direi che la maggior parte degli obiettivi, cioè nel senso all'inizio non li abbiamo fatti, perché... la prima... la prima l'abbiamo fatta completamente ah, già, non mi sono dimenticato di stamparmi to add una spada in pietra grazie, la seconda bisogna... ah, sì, lol, bisogna trovare un albero e tagliarlo eh, beh, in mezzo... in mezzo alla ghiacci si trova un albero e bisogna fare un simbolo di SOS vicino al... all'aereo fatto con robe di legno eh, sì, perché ne abbiamo tanto, quindi facciamo... bisogna mangiare il zombie flash, l'abbiamo già fatto craftare l'arco e le frecce ancora no eh, l'arco ce lo potremmo craftare, in teoria eh, sì, però, sì, allora sì le frecce io ce le ho, vabbè rescue the survival of the tail, cioè, che cazzo... cioè, salvo i sopravvissuti d'equipa, vabbè com'è che si crafta l'arco, non mi ricordo più eh... si crafta con tre di... di stick e tre di... messi come? eh, tre a formare il manico dell'arco e tre di... di... come cazzo si chiama? di... di filo messi in vertigiale eccoli qua vabbè, eh, comunque... ho appena scoperto che non dovevo tracciare l'insieme perché vabbè... comunque, perché dobbiamo fare uno snowman ma non ci interessa perché noi vogliamo moltiplicare le nostre cose quindi, prima facciamo le cose mi dai un attimo la... la zappa? no il coltivo grazie ehm, la terra che ho io quindi mi serve anche il piccone lol 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 allora, io da qui non ho visto nulla non ci sono alberi, c'è un po' di sabbia se ci può servire se mi dai il piccone sono più contento cosa te ne fai del piccone? eh, come gli spacco i blocchi? eeeh gli spacco a mano ma che blocchi di scare il quarzo devo pensare ah via no no vabbè questo mi serviva e anche quello di questo qua d'altra parte d'altra parte ma sei fin in occhio ma che cazzo sto facendo questo d'altra parte quale a fianco questo qua marrone e quello sotto questo no no coglione questo si quello lì quello lì questo qua no figa del dio mi ha fatto pure che cazzo te ne fai fermo e spaccami con quello marrone come la faccio con l'ultima azione di zucca se no cazzo arami qua ma che cazzo è successo scudo arami il ah no forse è finito là ok aspetta fermo un attimo ci stiamo incasinando levati arami qua vaffanculo me ne manca uno ma perchè mi manca non ho la zappa ce l'hai te la zappa giusto c'hai ragione prendo una una terra da qua siamo impediti cioè vabbè ok ok cazzo ma sei stupido basta e vai oh e l'acqua doveva c'è manca il secchieto c'è manca il secchieto fermo un secondo scusa un secondo dobbiamo mettere anche l'acqua beh non è proprio detto eh no come cresce la roba senza l'acqua cresce anche senza l'acqua però vabbè adesso eh ho capito che lascia il cazzo ma c'è una fonte d'acqua qua vicino si c'era la volutora vabbè adesso è notte ed mi sa che non è proprio conveniente uscire il ghiaccio eh non ce ne facciamo niente dobbiamo fare una palla per prendere la neve e facciamo il pupazio di neve eh con l'acqua che deve ancora crescere però ah fammi vedere ma si può fare la lana con che cosa con i fili giusto dei ragni si quanti ne hai? uno uno ce ne sono tre qua io ne ho quattro eh quanto ci vuoi per fare un blocco di lana? eh quattro cazzo c'è manca proprio uno eh che palle eh intanto avremmo fatto due blocchi di lana uno intanto l'ho fatto Ed ah sta morendo di fame oh andiamo a chiudere qua però scusa eh no ciccio bello tu non entri che uno zombie uno zombie eh Ed sei morto no mi sono ho fatto slash kill fermo si ma non è che tutte le volte devi fare slash kill perché stai per morire oh non ci voglio voglio correre sto registrando allora ma se io faccio così eh no però non vado in cazzo vabbè io ho fatto un po' una cazzata facendo questa roba dei semi perché potevamo fare subito lo snowman però fa niente tanto cioè questo coglione quanti cazzo di cosi vuole di carne marcia 38 e noi c'è tu c'è il tuo io ne ho 31 andiamo fuori a killare qualche cazzo di zombie dai sì dai madonna due enderman tranquillamente eh se proviamo killarli che abbiamo le enderperle eh che cazzo ce ne facciamo vieni qua un bebestia proprio un mostro madonna schifoso ladro oh l'ho arato uno eh l'ho arato un enderman e non mi dà la carne marcia il primo zombie che non mi dà la carne marcia è lui cioè che andiamo a guardare l'enderman e ora all'attacco sento schietri sì ho un enderman ho un enderperle lo vedo dei zombie ma c'è due enderperle ad buono dai cammier è un zombie villaggiero è un zombie villaggiero ed ci stanno entrando in casa tutti gli zombie di sto mondo ho due di carne marcia ho dei creeper che mi seguono ed ho sì tranquillo sta venendo a darti una mano comunque per te quante hai di carne? un po' allora arriviamo a questo scheletro che io ho l'arco le frecce oh merda sparati sparati odio madonna mi stavo quasi per ammazzarmi eh di ho mezzo cuore se mi prende il cazzo di scheletro se torniamo a casa non è una bella cosa sì quante carne marcia hai? eh 33 cazzo c'erano due io madonna me ne serve un'altra due e sblocchiamo il trade successivo vedo uno zombie di là vado a combattere io tanto gli ho cuore cioè pochi ma gli ho cuore io ho mezzo dai allora quanta carne mi dai tu? certo certo c'è se c'è che prende due n aspettate che qua prendiamo il filo no ecco si si vede come che filo abbiamo preso ok qua ci sono c'è uno zombie e due ragni allora vediamo madonna madonna ed è mai ammazzato nooo ci siamo uccisi ci siamo uccisi a vicenda guardate che lì sotto fu slime by n'espoghese ma no adesso dove erano troppe ed? eh non mi ricordo aspetta dov'è che non mi ricordo molto meno? ah qua ed ed vieni si prendi le spade più che altro sto prendendo tutto dammi la spada ed se vieni verso di me magari perchè ho leggermente l'inventario pieno eh andiamo a casa ed no devo killarli devo killarli malissimo mi hanno rotto il cazzo veramente qua eh ed ascolta io vado a casa c'ho 76 ragni dietro di me li vedo li vedo c'è anche un zombie che sta correndo dietro di te un po' piccolo madonna se magari riesco a mettermi la spada nel non dottare veloce dai madonna non riesco questi cazzo di zombie piccoli li odio muori non ho trovato un filo ci sono sette ragni madonna bonina dai per la tua carne mazza dai siiii mori oh filo possiamo farci letti ne spedetti ne spedetti si ma quanto ne hai di filo eh due c'è 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 cazzo c'è 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 c' mi servirebbe tipo l'armatura ok mi servirebbe anche un aspetta quanta carne marcia carne marcia 38 dai vai andiamo a fare il trade no no faccio il salmone no lol ok non è una cosa molto positiva qua magari cerchiamo di uccidere il villager ciao cleric eric gave me a smerald a smerald signori mi ha sbloccato il trade 9 lingotti d'oro per uno di emerald secondo me ce ne abbiamo alcuni no di smerald ne abbiamo uno solo ed no eh si grazie ma i lingotti d'oro quando ce ne abbiamo tre bellissimo 2 no 2 qua allora 5 io ne ho 3 ed ne hai 3 ed ne ho 3 ora ne ho 5 ok ora il ghiaccio dov'è che è perchè vorrei metterci dell'acqua qua vicino quindi facciamo la posizione bella bella il ghiaccio non c'è ed sicuro al cento per cento neanche al villaggio c'è il ghiaccio non c'è il ghiaccio no non c'è il ghiaccio un cazzo di nulla come al solito non c'è il ghiaccio per esempio per non usare cosa che possiamo fare l'accesso si grazie con le blaze rod vabbè qua ancora no però cos'è che intendo cosa ci possiamo fare eh un cazzo stanzialmente non mi pare io direi che questo smernaldo lo conserviamo sai no ma io direi di buttarlo via si nel uh potrei fare una roba con le ossa specco le ossa mi pare che bisogna fare una cosa ah si i lupi bisogna andare a prendersi lupi quindi vabbè io si è eh prima dobbiamo far passare la notte si però fa fare un'altra cosa di lana si è già fatto tu vero si allora ho fatto un po' di grano qua di farmi un pochino di grano così ecco vaffanculo non è neanche maturo quello vaffanculo neanche questo maturo vabbè ok dai che avevo visto la mappa ed ah qui vedi espanderci Ed vedi la mappa che dicevo oggi ma è vero se la metti dentro a un cazzo di indirizzi eh si mi dai allora spostiamo da qua e la mettiamo qua la zappa che dovresti avere raccolta tu quando sono morto si ce l'ho io un attimo la mettiamo qui la nostra bellissima mappa così sappiamo sempre dove siamo certo chissà dove siamo zappa qua questo e questo questo e questo per quello lì mi serve per tenerci il coso vabbè si anche cosa può andare eh abbiamo due pezzi di grano bellissimo la nostra flora da coltivazione cioè quasi direi un campo di patate eh dobbiamo prendere l'acqua ed e mettere la canna da zucchero eh si grazie io vado prendere la sabbia a me serve l'acqua però c'è quello il punto è l'acqua è la cosa importante io sono qui oh ed gli enderman vieni a chi là degli enderman aspetta dovrebbe essere questo di giorno oh ghiaccio 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 ecco che c'era vaffanculo ho detto che c'era ok il ghiaccio ci serve enderpearl il ghiaccio ci serve a manetta ragazzi fidatevi perchè così ci facciamo il è ghiaccio questo è ghiaccio questo si è ghiaccio ecco lo tipo 27 enderpearlonno 2 io ho un secchio di acqua così ce lo portiamo a casa e ragazzi ora vi faccio vedere anche un trucco anche se non è un trucco alla fine è una cosa molto importante che bisogna sapere su minecraft che molti non sanno che cosa? è una cosa abbastanza importante sulle coltivazioni che cosa? eh ora ti faccio vedere la cosa che ti metto è di saltare mentre corre allora supponiamo di mettere dell'acqua non ha il piccone c'è un piccone si adesso sto arrivando a casa con la sabbia anche sto arrivando e con altre due enderpearl che so che non servono a cazzo ma io ce le ho lo stesso ok se mi rompi un blocco tipo questo qua dovrebbe essere maturo un blocco tipo qua dove? un blocco di quarzo qualsiasi ok e ci metto l'acqua teoricamente qua il terreno dovrebbe cominciarsi ad arare ora voi dite ok vabbè si ara cioè ok però quello che non sa molta gente è che è molto importante capire quando è stata piazzata la piantina cioè facciamo finta questo seme qua è stato piazzato nel momento in cui l'acqua non era ancora irrigata ok? quindi crescerà alla velocità uguale a questo anche se in questo momento questo qua ha l'acqua sotto di sé non ancora irrigata e questo si quindi dobbiamo fare così e rimettere i semi dove l'acqua è già irrigata prova a zappare anche qua le lezioni di coltura ed di zappologia ed questo blocco però non è che mi piace tanto l'acqua qua se facciamo al piano di sopra ed cioè al piano di sopra ci facciamo la nostra coltivazione privata di merda ok si viene al piano di sopra oh è cresciuta la zucca nespo 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 la raccolgo io eh viene al piano di sopra ok cioè rompi tutti i semi e viene al piano di sopra capito capito allora facciamo al piano di sopra ma il principio è uguale però questo qua per le zucche le lascio perché già lì c'è poco spazio ed se no poi dov'è che sei andato? al piano di sopra ok vengo 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 ok basta allora si sono chiuso fuori io e tu? si ed sai com'è? ci sono anche le scale che abbiamo a casa sono abusivo di merda ma dove cazzo si entra? non mi ricordo mai più no sono abusivo sono abusivo comunque c'è le musiche che mette uovi sotto il video sono troppo ipiche cioè ne mette una e basta però sono epica è tipo una jazz che non è riuscita ed abbiamo la scala in casa si lo so ma non riesco mai a capire dove cazzo ah ok dillo no dov'è che è? apri la porta vieni apri la porta ma è già cresciuto un'altra zucca si ma qualche una dosca ah vieni qua non so perchè vieni qua qua è stata una buona idea di fare una roba di zucca e la facciamo qui ok oh qua c'è spazio qua c'è spazio aspetta che vado a fare un piccone che dobbiamo fare il soffitto se non entrano i ragni si lo possiamo fare con le zucca no non si può pensare se non sbaglio infatti ok però con le lanterne con le torce diventa un legge con le lanterne eh dobbiamo prendere ed abbiamo finito il legno yeah che bello però vorrei fare una roba che non ha senso farla fare prendere un po' di pietra allora quindi la faccio come si faceva così eccola qui madonna fiero piazzati proprio come sprecare una torcia boietta anche se in realtà non è sprecata perchè c'è la luce c'è sempre ehm ce la fai a fare un piccone? eh sto spaccando la roccia con le mani abbi sai com'è eh si e che cazzo vuoi ottenere con la roccia? un piccone? con le mani? non ti da nulla con le mani è vero figa ecco perchè non ne droppava niente eh hai legno tu? eh no eh ed sai che non abbiamo più legno? siamo una merda eh lo so però non è vero guarda guarda qua che si fa facciamo la farm un po' rialzata se mi dai un attimo la zappa non credo che con le slabs possa fare il legno come si here come si no ma ed dobbiamo fargli il soffitto sennò entrano i ragni vabbè ma dobbiamo chiudere il soffitto si ma è relativi cioè è molto difficile che entrino eh ce l'hai? piazza altra terra qua piazza altra terra dobbiamo andare al villaggio a fottere non ne ho ho solo sabbia ed è impossibile che non ne ha ci avevo un bordello prima ero lasciata nel cesto no? ah ok ah ha sbloccato un altro terreno il villaggio eeeh quant'interno ha sbloccato? ha sbloccato il terreno dei lapislazuli e quello della redstone quindi siccome abbiamo uno smeraldo proverei a fare quello dei lapislazuli per andare ancora avanti eeeh cosa ce ne facciamo due slapislazuli sinceramente ma non lo so però dovrebbe teoricamente farmi sbloccarmi un altro eccolo qua lezzo proprio oh sette smeraldi per un un eye of ender quindi possiamo andare anche nel land se avesse più tanti smeraldi si e sette smeraldi dove li troviamo? eeeh e bisogna fare il commercio con la carne marcia è normale ora aspettiamo guarda che sta già crescendo fierissimamente questa mattina è più che poi tu teoricamente dovrebbe occupare 5 per 5 quindi si basta che si eh ed ho finito la sera eeeh dovremmo andare al villaggio in teoria dai andiamo si ma io direi che per questo video è anche tutto perchè siamo già arrivati a 22 minuti e quindi ci vediamo al prossimo video che sarà sul canale di snespo con la frost brinnaff e tutto ciao a tutti